Alfredo mi devi dare la notizia che mi stavi dando proprio 5 secondi fa fuori onda me la spari subito e poi per favore Matteo Materazzi Tutto in diretta, tanto questo è il bello che oggi quando abbiamo 50.000 stand, Pelle Gatti per favore Allora, sei il re di Milano, sei il re d'Italia, sei il re di Mondiavolo, però se Pedulla non mi ascolta poi è un delirio Quindi cartellino giallo No ma io ascolto Pelle Gatti Sto scherzando vai Alfredo vai con la notizia No, anche Pedulla aveva la voca di Mondiavolo No, no, io tra l'altro devo fare i complimenti a Carlo perché certe volte mi arriva la notifica di alcuni suoi video simpaticissimi di 2-3 minuti sui social, su Facebook Che è un po' l'essenza della sintesi che ci vorrebbe oggi e che purtroppo non sempre c'è Quindi certe volte la mattina mi arrivano questioni di 3 minuti, ho parlato di Veretù, ha parlato anche dei progetti del Milan Quindi sono molto curioso ed entusiasta del fatto che lui possa fare le telecronache per Sport Italia Volevo soltanto dire quei due temi che ho accennato prima, che comunque non vanno sviluppati in un minuto L'Inter che si sente, come devo dirti, inorridita per la richiesta da 85 milioni di euro circa per Lukaku Sa di avere il vento a sfavore e il tempo soprattutto contato perché ricordiamolo Il mercato chiude da noi il 2 settembre, il mercato chiude da altre parti ad agosto Il mercato chiude in Premier l'otto, l'otto significa che ha delle scadenze domani 18 ai 20 giorni È il primo obiettivo di Lukaku e il Manchester United non è che sostituisce Lukaku il 7 Il Manchester United deve sostituire Lukaku da fine mese, massimo il primo di agosto in poi C'è questa amichevole prestigiosa tra Manchester United e Inter L'Inter non parteciperà con marotte ausilio salvo variazioni di programma rispetto alle scelte fatte Ma l'Inter ha intenzione di preparare un'offerta scritta che si possa avvicinare 70 milioni di euro E che comunque possa essere un segnale per il Manchester United Vedremo gli effetti, saranno giorni molto caldi Lukaku, malgrado tutte le alternative considerate al momento bloccata la situazione C'è che parleremo più avanti di Wayne, resta la primissima scelta E di solito Conte quando chiede viene accontentato Dobbiamo aggiungere che, e poi io mi fido anche delle fonti che non possono essere rivelate Nel pomeriggio c'era stato un caffè tra Pradea e Ausilio e stasera c'è stata la cena Ma hanno un grande rapporto che non obbligatoriamente, a parte il discorso Borca-Valero e mi fido Possa portare a delle trattative di mercato Noi sappiamo quello che l'Inter ha provato a fare per chiesa prima che si inserisse la Juve Ma per il momento che a me risulti, cercherò di darti gli aggiornamenti E' un rapporto che loro che va al di là, ripeto Borca-Valero c'è una distanza tra domande e offerta sull'ingaggio che Borca guadagna Quando ho deciso di lasciare la Fiorentina per andare all'Inter La Fiorentina lo riprenderebbe, ma c'è distanza al momento A oggi, in questi minuti, non mi risultano cose calde di mercato Un secondo soltanto Alfredo, arrivo subito Ecco, da quello che so io, Sarri ha chiesto un centravanti Perché Fabio dice Cristiano Ronaldo è il centravanti No, a me risulta che Sarri abbia chiesto il centravanti E se dovessi scommettere un euro, in questo momento scommetto su Icardi a fine agosto Sono i dieci di prima, e quello di adesso a Carle, piano piano E' abituato Carlo, cavalli, gambler E quindi, secondo me, più che chiesa, penso anche io Icardi a fine mercato Allora, tu sai bene che, almeno su Sport Italia e non solo Chi mette il timbro sul mercato di Sarri, c'è solo una persona Che è Fedo Pedullà Adesso allora, adesso ho rischio allora O mi dà ragione o mi dà torto Mettiamoci un euro sopra, dai Allora, un euro se Pedullà conferma o meno che Sarri l'attaccante lo vuole o no Pedullà? Il centravanti Il centravanti, giusto Possiamo arrivare a 5 euro? Eh, normale Possiamo arrivare a 5 euro? Possiamo arrivare a... no Allora, l'Inter deve fare un'offerta a Lukaku in assenza di certezze su Icardi Questa è la situazione dell'Inter oggi Cioè, tu non puoi aspettare perché giustamente Carlo parlava di fine agosto Se non sarà fine agosto sarà il 18, sarà il 19 Questa storia difficilmente la risolveremo prima Io ribadisco un concetto speso 100 volte Per Sarri, Icardi è l'attaccante perfetto per il suo sistema di gioco Poi che non sia una priorità adesso per la Juve, ha ragione Fabio Però intanto, in qualche modo, deve uscire, almeno così vorrebbe la Juve E però l'Inter deve fare un'operazione Allora, per me l'Inter dovrà fare un prezzo e non potrà svilirlo Proprio perché sa che c'è la Juve dietro E' una situazione di un incastro enorme E di una difficoltà estrema Però loro adesso devono spendere i soldi per Lukaku E non possono aspettare gli incastri di Ligua Alfredo, devono uscire due centravanti dalla Juventus Che devono accettare di scendere Perché io credo che non ci sia una squadra, secondo me, in questo momento Che possano prendere Iguain e Mandzukic del livello della Juventus Con degli ingaggi pesanti, con dei costi pesanti Non è semplice, non è semplice assolutamente Io adesso su Mandzukic non mi voglio concentrare Allora, io l'ho anche così ipotizzata La strategia della Juve di tenerla lunga Il più a lungo possibile Per fare in modo che poi l'Inter si trovi spiazzato Uno non possa far mercato facendo un'offerta a Lukaku Questo non lo so Perché credo che il potenziale economico dell'Inter Sia, non dico illimitato Ma assolutamente all'altezza per fare l'operazione Lukaku E' una cosa di tempismo Può essere anche un'operazione Quindi ci troviamo sull'argomento che disturbo o non disturbo Tu devi fare Lukaku, provarlo a fare indipendentemente dai cardi La Juve i giocatori li ha fatti senza farle uscite Non mi riferisco all'Inter No, te lo dico, la differenza è quella La Juve le ha fatte prima di farle uscite Gli altri forse prima non devono farle uscite e fare le operazioni Però giustamente c'è anche una deadline molto importante Che il giocatore che è il target numero uno dell'Inter Gioca in una Lega che chiude il mercato Quasi un mese prima delle altre Quindi ribadendo L'Inter prepara un'offerta scritta Vedremo come l'assorbirà lo United Io credo che l'offerta possa andare sui 70 milioni Cercando di direzionare al massimo E poi Iguain, Icardi e Gieco Ce le giochiamo in un secondo momento Gioca in un secondo momento Grazie a tutti